Sono 90 milioni i profili che sono stati attaccati negli ultimi mesi su Facebook a partire da quando gli hacker hanno scoperto un buco nella programmazione del più importante social network al mondo. È bene sapere però che queste emergenze potranno verificarsi sempre più spesso, mano a mano che il mondo diventerà più interconnesso. Ma cos'è accaduto martedì scorso che poi Mark Zuckerberg ci ha comunicato ieri sera alle 20 ora di San Francisco? In sostanza la società di Menlo Park si è accorta che era possibile entrare negli account Facebook senza la password personale, un fatto inaudito. In pratica dal luglio 2017 è stato introdotto in Facebook un caricatore automatico di video di compleanno. Lo conoscono tutti, tutti coloro che si sono visti fare gli auguri online. Il nuovo software, inaccoppiata con la funzione VUAS, vedi come, che molte ragazze usano per controllare cosa vedono i fidanzati del loro profilo, creava un bug, un buco nel software. E la prima volta che si apriva Facebook da computer o telefonino dopo aver usato VUAS si lasciava in memoria la password. Dopo un po' di tempo gli smanettoni, che sempre cercano qualcosa che non va nei programmi in rete, se ne sono accorti e hanno capito come estrarre la password ed entrare nei profili. I danni però non dovrebbero essere molti, giovedì la falla è stata chiusa, anche perché la vera violazione della riservatezza sui social nasce dall'analisi dei comportamenti e dei gusti, che sono di per sé già pubblici. Non abbiamo altre informazioni comunque per dare una risposta definitiva. Di certo l'unica vera difesa in questi casi è non caricare mai nulla di veramente importante e personale sui social.